Polemiche nel centro-destra dopo l'indicazione da parte del Presidente del Consiglio regionale di Gatti a giudice non togato della Corte dei Conti. Questa mattina, a margine di una conferenza stampa tenuta a Pescara per presentare due progetti di legge, il coordinatore regionale della Lega Luigi Deramo ha voluto precisare la contrarietà e la posizione del suo partito. Io non parlerai di polemica, in più di una circostanza si era chiesto di soprassedere perché le urgenze rispetto a delle questioni legate alla vita legislativa della regione sono altre come quelle che abbiamo presentato questa mattina e che fanno riferimento ad un miglioramento dell'offerta turistica ma anche alla difesa delle classi più deboli, oggi abbiamo parlato di anziani. Abbiamo appreso dalla stampa che era stata fatta questa indicazione sul cui nome io non ho nulla da sottolineare, è una questione di metodo e rispetto al metodo c'è chiaramente il richiamo da parte nostra che non si possono fare scelte senza una totale concordia all'interno della coalizione. Ho visto che anche Forza Italia ha espresso delle fortissime perplessità, chiaramente essendo noi il primo partito della coalizione abbiamo anche il compito della responsabilità, quindi è stata sicuramente un'azione che ci ha procurato un dispiacere soprattutto nei rapporti, insomma è veramente antipatico leggere che si sono fatte delle indicazioni dalla stampa. Per quello che riguarda la Lega noi andremo avanti con la produzione legislativa, noi abbiamo un compito preciso che ci hanno affidato gli abruzzesi, cioè quello di migliorare, implementare la qualità della vita, la sicurezza, l'ambiente, il turismo, le politiche giovanili e noi su quello siamo concentrati. Se altri hanno intenzione di concentrarsi su questioni di cui abbiamo poc'anzi parlato sono liberi di farlo, certamente ogni qualvolta non condivideremo una cosa, lo diremo in maniera chiara e forte. A me piacerebbe che tutta la maggioranza fosse concentrata a portare avanti un grande lavoro per realizzare la cosiddetta rivoluzione del buonsenso che in campagna elettorale tutti abbiamo speso come alternativa a un governo del centro-sinistra che ha caratterizzato in maniera negativa i precedenti cinque anni.